Bentornati tutti a correte numerosissimi Adesso scusatemi Mi si sarà intravista anche la panza ma sinceramente sti cazzi Prendo solo un attimo una maglietta Ragazzi sfogo totale devastante Allora aspettate un attimo che Come state ragazzi? Come state come non state? A correte numerosi condividete la live E poi iniziamo Oggi tante bestemmie Sì tra l'altro Fede scusa forse ti ho risposto male Non ho capito se avessi scritto con me Con l'altro ragazzo che ho scritto Forse non ti ho risposto benissimo Non ho visto Purtroppo ragazzi siamo tutti un po' nervosi Siamo tutti un po' nervosi e ora devo mettere Devo chiarire alcuni aspetti Devo chiarire alcuni aspetti Sono appena fatto una doccia Mi sono un attimo rinfrescato Non mi sento benissimo Sono molto rattestato Queste cose poi rimangono Vediamo se entra qualche cane Qualche verme Qualche topo di fogna Qualche ratto Ah sì sì ma infatti poi gli ho risposto anch'io Al tipo Barez Entra qualcuno? Entra qualcuno? Qualcuno mi rispetta ancora? O ormai sono praticamente un defecato Della società caglieritana Ma allora Oggi c'è da fare C'è da dire tanto C'è da dire tanto 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 E Aspettiamo un attimo che entri Però Però obiettivamente Madonna Madonna ma che cazzo di dole c'ha sta maglia Io ancora non l'ho messa Figa Scusate un attimo Arrivo eh Madonna che cazzo di dole Di merda Dio buono Ma vorrei che ho finito le magliette Da una cosa in l'altra Va bene dai sto senza Vi faccio Vi faccio una live con sviato il sonore Sti cazzi onestamente Allora Ruota dal dispositivo Ok ci sono Allora Aspettate Fatemi riprendere la chat Chat dal vivo Ok Sono venuti pure in tanti Beh hanno 20.000 abbonati Cioè io Mi aspettavo Anche Mi aspettavo addirittura pieno Lo spicchio dei tifosi Comunque sì Una tifoseria sicuramente passionale Vabbè Sentite Facciamo questa Questa diretta Poi chi entra entra Chi non entra non entra Il problema ragazzi è che Non va bene Cioè non va bene E C'era un narcisismo Una sicurezza Una presunzione dopo il benevento Che ripeto Io mi sono beccato dei commenti Del tipo Eh ma adesso Non parli che Liverani ha vinto Liverani ha vinto Grazie alle sue scelte Tutto il fatto che ha vinto Anche O meglio L'ha messa in cassaforte Grazie a una scelta che Gli suggerivo personalmente Da un po' di tempo Però voglio dire Io Sono veramente un po' Un po' Un po' Un po' rattristato Un po' rattristato E inca... No ma No triste ne ha Cioè non lo so Un insieme di emozioni Non capisco Se sono più triste Più incazzato Secondo me ci sono degli errori Abnormi Nel modulo E nella gestione Della partita Da parte di Liverani E mi pare assurdo Che ci sia gente Che non lo capisca Mi sembra assurdo Che dopo una partita In cui 90 minuti Fai un tiro in porta E sei preso per il culo Perché non siete tutti Di Cagliari Cioè chi viene da Torino Per vedere la partita Solo del Cagliari Cioè io sono venuto per quello E trovarsi poi In delle situazioni In una situazione del genere Cioè lasciate like E giocare in una situazione Del genere Non è ammissibile Non è ammissibile Ma nessun Nessun mondo In nessun senso Cioè Non Non funziona Non funziona così Cioè il modulo In questo modo qui Cioè No non puoi Ma che cazzo di modulo è Il 451 in casa Volevo fare questa live Per puntualizzare Soprattutto delle cose Che ho visto Che ho visto Meglio Che non sono riuscito a dire Nel video Perché chiaramente Nel video Uno cerca anche Di far veloce Per Per questioni Per questioni appunto Di proprio Di caricare il video In tempo Tra virgolette breve Anche se poi Lì allo stadio Non prendeva Però ragazzi Cioè Molti di voi Oggi Per fortuna Erano indignati Ci mancherebbe altro Io ero incazzato Allo stadio Che applaudivano E c'era Un buonismo Un positivismo Che in realtà Sono contento Che la piazza La piazza Ci sia Però Obiettivamente Signori Cioè Mi viene da dire E poi il problema Che si va a giubilare È gente sbagliata E adesso ne parliamo E adesso ne parliamo Unica partita buona Con il Modena Con la SPAL Finora Io concordo Completamente Per me I momenti migliori Del Cagli Sono stati La partita Con la SPAL Che per me È stata una partita Dove lì C'è la componente Sfortuna Ma hai creato tanto E col Modena Dove hai 60 minuti Hai giocato molto molto bene Poi terribili Però 60-70 minuti Buoni Però Non puoi fare Delle scelte Del genere Non puoi Cioè Sono pericolose Sono rischiosissime Cioè Ma Il fatto è questo Ragazzi Ma Col 4-5-1 Ci può giocare Il Modena In casa Ci può giocare Il Non lo so Ditemi qualche altra Squadra scarsa Il Non lo so Sono tante squadre scarse Ma cazzo Tu con quei giocatori Che tecnicamente Sono così E che conoscono Così bene La serie B Ma non puoi Giocare in quel modo Sto 4-5-1 Che la padura Lì da solo Poveretto A disagio Completamente Non ha chiappa a mezzo Ma per forza Mancoso e Nandez Che sono dei morti Clamorosi Mancoso preso Per che cosa Ma per cosa Mancoso Ve li devo ricordare I messaggi dopo la prima partita Ve li devo ricordare Ah non capisci un cazzo Ah ma vedi Hai visto Non ci servono i giovani Complimenti Complimenti I miei complimentissimi A tutti Non ci servono i giovani Ci vuole l'esperienza Porca puttana Abbiamo una squadra Che ha l'età media Di 36 anni A momenti Ripeto I miei complimenti I miei complimenti E la cosa che vi dico di più E che non sono assolutamente stupito Cioè io dopo la partita col Benevento Ho detto Ragazzi È una partita Una vittoria importantissima Ma dove ci è girato tutto bene Tranne l'espulsione Perché loro hanno avuto diverse palle e gol Dopo l'espulsione Hanno sbagliato dei colpi di testa Due metri dalla porta Abbiamo fatto due tiri All'ottanta Sino all'ottantaduesimo Dico l'ottantaduesimo Sempre perché era uscito il dato Sino all'ottantaduesimo Il Cagliari aveva fatto due tiri in porta Di cui un gol Però lì era il grande Cagliari Ah ci siamo Stiamo arrivando Lo ripeto Per me il Cagliari sale quest'anno Ho le probabilità di salire Ci sono Perché ripeto Ma sarà una salita di inerzia Perché il livello è troppo basso Cioè la partita che ha fatto oggi il Cagliari Il Bari Se fosse stata una squadra valida Doveva metterli sotto Dal primo all'ultimo minuto Ma magari Ma magari Avrei visto una partita più piacevole Invece il Bari ha fatto come il Cagliari Poteva vincere 1-0 Con un gol di culo E avrei detto le stesse identiche cose Le stesse identiche cose Dopo la vittoria col Modena Hanno detto Sì ragazzi 60 minuti incredibili Però Guardavamo tutta la partita Ci sono stati 30 minuti Dove il Cagliari non ha più toccato palla E meno male che c'era il Modena contro Che sono un ammasso di Insomma Una squadra obiettivamente scarsa Meno male Meno male Pensateci fosse stato qualche Qualche altra squadra Valida Molto valida In grado di Di buttarla dentro Su tutti quei cross Che c'erano stati Vi ricordate? Eh ma sei troppo negativo Eh ma pretendi troppo Ragazzi Mi dispiace Ma purtroppo Gira rigira La piazza Ha ciò che merita Quando la piazza Oggi addirittura Una signora Si è permessa di dire a Pietro Eh ma Siete troppo Eh un po' di Ottimismo Ma l'ottimismo C'è più che dire Ma secondo me si sale Ma così non va proprio bene Che cosa ti devo dire? E poi mi scrive la gente In privato Eh ma Noi ti vogliamo Gazer Ma io Cioè ragazzi Non è che mi volete Sono da comando Cioè Io l'anno scorso Credevo che il Cagliari Si potesse salvare Io credevo che il Cagliari Si potesse salvare Siamo a retrocessi Per un punto Credevo che l'Udinese Potesse battere la Sera Unitana Ho fatto una settimana di live Prima degli esami Che mi ha Insomma Mi ha anche complicato parecchio Anche richiesta di tempo Insomma Di organizzazione Chiamare uno Chiamare l'altro L'ho fatto perché ci credevo E perché volevo Gazer un ambiente Che non ci credeva più E Poi Insomma Non ho avuto ragione Fino in fondo Però Voglio dire Su gran parte delle cose Di cose che potevano girarci a favore Lì Ci ho avuto effettivamente ragione Live con il gol di Altare Cioè ragazzi Io non Non vado Non vado a comando Cioè Nel senso Ad oggi vi dico Per me il Cagliari Come rosa È una delle top 3 4 rose favorite Per me Vi dico la verità A me sta roba Sembra troppo Il Cagliari di Rastelli Un Cagliari Senza né capo né codi Mi ricordo Guardate Forse l'allenatore Che ho più odiato È Massimo Rastelli Però Ha vinto la Serie B Però ha fatto l'undicesimo posto Ma non vuol dire un cazzo Non vuol dire un cazzo Non vuol dire un cazzo Bari non promettente In che senso Scusami Parliamo un attimo Di moduli Di modulistica Un 4-5-1 in casa È da mediocri È ok Il problema Qual è di questo modulo Se tu interpreti Questa roba qui Come 4-3-2-1 È sbagliato È sbagliato Perché Mancosu Cioè Mancosu È più come trequartista Unico centrale Lo vedi che Lo metti sempre largo E lo fai allargare Ma Cioè ragazzi È proprio a disagio Mancosu L'uomo non lo salta Manco morto Non l'ha mai saltato Da quando è al Cagliari Non l'ha mai saltato Lo salta magari Col passaggio Ma non è un saltare L'uomo in velocità Cosa che ti poteva fare Un desobus Cosa che ti può fare Un lugumbo Se lo metti da quella parte Cosa che ti può fare Millico Cioè Voglio dire La gente Ha anche da mettere Volendo c'è Niente Ci si intestardisce Con Mancosu Infatti Liberani Un testone E l'ha persa lui Con i suoi buomini Perché lasciare Viola Sino al 95esimo È una follia Lasciare Mancosu Sino al 95esimo Vuol dire Essere Pirla Fondamentalmente Nandez Idem con patate Cioè Nandez Per me È Se lo vuoi mettere Sull'esterno Un esterno È una tutta fascia Quindi Cioè Se fai il 4-5-1 Posso comprenderlo Per quanto Secondo me Limiti molto L'avanzata di Zappa Che sta migliorando Molto Invece È l'unico Che sto vedendo Con continui Miglioramenti Il problema Anche qui Dov'è il problema È che se tu Questo modulo Lo intendi Come 4-3-2-1 Nandez Nandez È sbagliatissimo Nandez Non ti fa Il trequartista Nandez Nei passaggi Nella visione Dell'ultimo tocco È un cane Cioè Dai Parliamoci Chiaramente Ma poi Oggi ripeto L'ennesima Confusione Tattica Una squadra Disordinatissima Che non si capisce Un cazzo Uno prende la palla E deve guardarsi attorno Dieci volte Perché non sa mai Dove è uno Dove è l'altro E quando prova A dargliela di prima Perde il pallone Perché è una squadra Che non ha capito Con che cazzo Di schema gioca Ma non l'ha capito Neanche Liberani Perché Prima un 4-5-1 Poi un 4-3-2-1 Poi un 4-3-3 Poi un 4-3-1-2 Poi un 4 Poi una difesa a tre Poi diventa Un 4-2-3-1 Perché oggi abbiamo fatto Un 4-2-3-1 A un certo punto Con Macumba Roby Cioè Ma come cazzo fai Ma come cazzo fai Ma come cazzo fai Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Allora io ve le dico subito Come metterei Cagliari A giocare Vogliamo fare il 4-3-2-1 La Padula non può giocare Così da solo Io metterei Il signor Io vi dico questa cosa Io metterei il signor Falco E proverei Lugumbo a piedi invertiti No Nel senso Lugumbo sulla sinistra Con Ad andare dritto per dritto Proverei una cosa Di questo tipo Ma cioè Non puoi lasciare La Padula così da solo È un giocatore inetto Cioè Allora io guardate Vi dico la verità Con sto modulo Per me giocare con la Padula E suicidarsi Cioè Con sto modulo Se la Padula Lo lascia giocare da solo Allora preferisco 100.000 volte Paoletti Ed è entrato di nuovo Molto bene E con la prossima volta Io lo voglio vedere Ripeto Liberani È così È così È così C'ha una testa Che veramente È dura 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 È un testone Come pochi È un testone Come pochi Lasciate like È un testone Come pochi Se Liberani Veramente vuole creare Un qualcosa Che abbia Un futuro Allora prima deve Dire Ok calma un attimo Prendi Nunzio Prendi Kurfalidis Li casi Gli dici ragazzi Credo in voi Dimostratemi che mi Mi sono sbagliato su di voi E rincominci da capo Perché non è possibile Che uno che l'anno scorso In primavera È stato uno dei migliori Centrocampisti Dell'anno Non è possibile Che una squadra di serie B Che fa schifo al cazzo Peraltro non ci trovi Sistemazione Neanche in tribuna E neanche Neanche Non viene neanche convocato Pensate che umiliazione Nessun giornalista Però le fa queste domande Tornando a noi 4-3-2-1 Se vuoi Con Luvumbo Falco E la Padula A centrocampo Rog Nandez Rog Nandez In regia Assolutamente Viola Adesso arriviamo Nel discorso Macumbo Viola Con questa mobilità Su come Mezzala Equivale Equivale A darsi Una mazzata Sui coglioni Per quanto Mi piace Viola Per quanto Voglio dire Però Equivale A darsi Una mazzata Sui coglioni E adesso Arriviamo poi Sia al discorso Macumbo Sia al discorso Difesa Sul quale vorrei Parlare Un attimino Zappa Molto molto bene Lo stavo dicendo Altare Migliore del Cagliari Come sempre A mani basse Carboni Oggi ha giocato Per me Benissimo Forse è passato Veramente inosservato Entra Barreca Gioca da cani Nel senso Nullo Nullità totale Boris Male in uscita Ora Si sono scatenate Le peggio Le peggio Tutta la gente Indignata Goldaniga Cosa non sei Fai schifo Vergognati Perché si è perso Chedira Perché ha perso Il duello Con Chedira Certo che La Padura Era troppo Solo in attacco Ma certo Ma certo Bravo Bravo La voce letteraria E' questo Il problema Tutti che dico La grande squadra La cosa Ma io Cioè la grande squadra Effettivamente Per l'anno È la grande squadra Ma la grande squadra Fa schifo al cazzo Cioè non domina Con nessuno Non crea palle goal Con nessuno Se segna Segna culo Ma che modo di giocare è Tanto un mal di testa Mi sta venendo allucinante Dicevo Goldaniga La colpa è sua Adesso sembra Che la colpa Di ogni nostro male Sia diventato Goldaniga Cioè c'è della gente Che perde Dieci tempi di gioco Per fare un passaggio Lascia dei contropiedi Pericolosissimi Però la colpa È di Goldaniga Va bene C'è gente Che mette il 4-5-1 Ma la colpa È di Goldaniga Va bene Cioè Scusatemi Scusatemi Ma noi abbiamo concesso L'unico tiro Che abbiamo concesso Al Bari È quello Sull'errore Di Goldaniga Ma non si può pensare Che la difesa Faccia una partita Perfetta Sempre Abbiamo una Delle miglior difese Comunque Numeri alla mano Numeri alla mano Abbiamo una Delle miglior difese Questo cosa vuol dire Che forse La colpa è Di come ha impostato L'attacco No No Ho la colpa è di Goldaniga Ho la colpa è di Goldaniga Perché fa comodo dire Ah Goldaniga Che schifo Che schifo Io non lo sto difendendo Però mi pare assurdo Che si critichi Che si critichi Goldaniga Quando Insomma Davanti Non si gioca Ma ragazzi Cioè Fate questo Ci vuole un po' di tempo Ma la squadra Non è rivoluzionata Cioè La squadra è rivoluzionata Sì perché ha nuovi uomini Ma nell'atteggiamento Nell'inerzia di gioco Nel 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 non programmare Nell'andare su un 36enne Piuttosto che un 19enne Che c'hai Sul quale potresti lavorare Sul quale potrebbe venire fuori Una cosa interessante Valorizzarlo Venderlo Fare quello che vuoi Venderlo bene Ragazzi Quello Non c'è Non c'è bisogno di tempo Quelle cose si vedono subito Oggi Ma che cazzo di grinta c'è stata Ma ragazzi Ma la grinta Le cose Cioè io Boh Poi scusate Fatemi dire un'altra cosa Dopodiché stacco Perché un po' di Ha sbagliato più zappa Sul gol Non lo so Non ho visto Non ho visto bene Cioè La colpa adesso Abbiamo una delle difese Migliori del campionato Ma la colpa È della La colpa è della difesa La colpa è della difesa Perché ha fatto una sbavatura Ma la colpa è dell'attacco Ma quale è della difesa Ma quale è colpa è della difesa Ma voi Ma con questo centrocampo Che gioca in sto modo Ma un Corfari Di faceva schifo Ma poi vogliamo parlare Di Macumbo Che ha acclamato Come fosse veramente Altro che il re di Persi Il re di Cagliari Il re di Cagliari Il re di Cagliari Il re di Cagliari Perde Diecimila Tempi di gioco Diecimila Tempi di gioco Oggi ha concesso Un contropiede clamoroso Sul quale solo Giorgio Altare È riuscito a rimediare Balla sul pallone Stai perdendo E balla sul pallone Un giocatore Stucchevole Pesante Che non è un mediano Che non è un mediano E continua Con sta cazzo Di scelta Di A Ma quale mediano Ma quale mediano Ma quale mediano Ma figa Ma io veramente Guardate Mi propongo Io Mi fate fare Tre mesi Di preparazione E il lavoro Che fa Macumbo Come mediano A ballare Su quella cazzo Di palle A passare la palla Indietro Vi giuro Che ve lo so fare In ugual modo E non è presunzione E perché È un giocatore Ad oggi Che non ha Un cazzo Di funzione Che è un giocatore Che non sa Neanche lui Cosa deve fare E cosa gli hai tolto Gli hai tolto L'unico appoggio serio Che aveva a centrocampo Ovvero Marco Rog Ma che cazzo Di cambio fai Io Rog Gli ho parlato Dopo la partita Sono andato lì Gli ho detto Rog Ma com'è che ti ha tolto Il sessantesimo Lui mi fa Eh guarda Non lo so Però quest'anno Così non va bene Bisogna vincere Ma cazzo Ma lo dice un giocatore Ma lo dice un giocatore Ci vuole l'eccelso Cioè Erano incazzatissimi tutti Altara aveva una faccia Da Da figa Da devastato Dalla vita Ragazzi Cioè ma Forse non è chiara una cosa Forse non è chiara una cosa Adesso Riprendiamo un po' di psicologia E cerchiamo di Cerchiamo di Di nuovo Insegnare un po' al mondo Come starci Su questo mondo Ragazzi Siamo In serie B Sveglia 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 Siamo in serie B Perdere in serie B Ha una gravità Enormemente E fare queste prestazioni In serie B Che facevi in serie A Ha una gravità Enormemente Maggiore Perché tu vuol dire Proprio che stai Prendendo per il culo Le persone Ci ho detto Anche su Macumbo Arriviamo un attimo Adesso al discorso Al discorso No ecco Ve lo parla di sta cosa C'è Rogue Che era approvatissimo Era ovviamente Incazzato nero E Infatti aveva chiesto Di non fare gli autografi Cioè insomma Di rimandare la cosa Poi in realtà È passato da tutti Gentilissimo Mi sono fatto rifirmare La maglia Per la terza volta E E lui è stato gentilissimo Io vi dico Poi me ne sono andato Dopo che è passata Metà squadra Perché ne avevo le palle Strapiene Poi era Diciamo che aspettavo Solo Giorgio Giorgio Incazzatissimo Anche lui Non voleva fare Diciamo prima Se n'era andato Poi è venuto a fare Degli autografi Anche lui Molto disponibile Anche Anche Boris Qualcuno Che non Non viene Fa finta di nulla Io voglio dire Io adesso Non voglio entrare Nella mente di nessuno C'è a chi comunque Questa parte del calciatore Magari gli fa anche schifo Cioè Il fatto di essere popolare Di non Di aver rotture di cazzo Gli fa schifo Però voglio dire Cioè Bisogna anche capire Un attimo le situazioni Io capisco Che perdere Faccia Magari per chi ci tiene Se i giocatori ci tengono Incazzare ancora di più Loro che Che noi No Perché lì Poi viene messa in discussione Anche la loro professionalità Si incombe in critiche Momenti negativi Insomma Vabbè Diciamo che Diciamo che comunque Sicuramente Hanno i loro motivi Per essere incazzati Però voglio dire Tu devi anche capire Che Stai tradendo La fiducia Con certe prestazioni La fiducia Di Di uno stadio intero Che oggi c'era E c'era anche Per Per gasarli Per stargli vicino Quindi quello che dico è Ma gente Veramente Dai che Non le cagherebbe Nessuno Cioè Non è che a noi A me interessa E aver la foto Con Dossena Piuttosto che Con Millico Piuttosto che Con Carboni Cioè Che fanno Un quarto Un decimo Della gente Che c'è lì Di autografi E foto Per poi andarsene Facendo I preziosi Ma ragazzi Ma non è il modo Dai Cioè Io veramente Vi ripeto Io ve lo dico Con una sincerità Di cuore totale Ma io fossi Un calciatore Fossi io Fossi io Un calciatore Cioè Si perde Vedo Della gente Che comunque Nonostante Abbia fatto schifo E infatti Io mi son detto Ma che strano Che c'è tutta sta gente C'è una merda Del genere E c'è tutta sta gente Nonostante Abbia fatto schifo Schifo Perché la prestazione Di oggi È uno schifo Nonostante questo Ci sono Dei ragazzi Dei Dei bambini Degli adulti Quello che volete Che sono qui E mi aspettano Che io mi faccia La doccia con calma E tutti i miei cazzi Mi aspettano Tranquillamente Perché 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 mi vogliono bene E quanto Non è modo di uscire così E far finta di nulla Ragazzi Non va bene Non va bene Non va bene Poi lo so Sono cose morali Sono delle piccolezze Però Ripeto 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 Non 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 bisogna Non va Non va gestita così Anche questa cosa qui Cioè io adesso Poi non Non sono aspettato Oltre Magari quelli dopo Che me sono andato Si sono tutti fermati A salutare A fare A vedere Però Vabbè Adesso rispondo a qualche domanda E poi stacco Quindi se avete domande Fate pure Anche Mancoso Ho giocato male Per colpa della squadra Ma Mancoso A me Onestamente Non mi fa impazzire Come giocatore Cioè È un giocatore Che il più Suolo ha dato Quando dribbla Dribbla Grazie ai suoi passaggi Non punta mai l'uomo Fine No ma perché Sei sfiduciato Albe Cioè Se tu sei sfiduciato Oggi Dovevi essere sfiduciato Anche contro il Benevento Io ve l'ho detto Cioè Essere sfiduciati oggi Ci sono sfiduciato Perché sono venuto Sin qui Mi dà fastidio Quello Semplicemente Ma per il resto Non rappresenta Una novità Non rappresenta Una novità In sei partiti Nei perse due Con questa squadra Porca puttana Porca puttana In attacco Ci vorrebbe uno Come saw Assolutamente no Cioè Se tu Metti saw In questo modulo qui Vuol dire Non giocare Come effettivamente Stai facendo con la padula Tu devi mettere Se vuoi giocare Con questo modulo Che è un 4-5-1 Che a me sembra assurdo Giocare con questo modulo Tu devi mettere Un attaccante fisico Aveva ancora più senso Tenere cherry Ad esempio Dezogus Non lo possono Richiamare Dal prestito Assolutamente no No ma esatto Il gioco è poco adatto Cambi completamente Sbagliati E quant'altro Ultimi 3 minuti Di live Ragazzi Giusto per fare Una mezz'oretta Così Di sfogatoio E poi Me ne vado un po' a dormire Mi sa Sono proprio molto stanco Sono proprio molto stanco Sono stanco E Un po' stufo di tutto Insomma Si Giuseppe Col 4-5-1 L'unico giocatore Che potevi Utilizzare In questo modulo In modo efficace Come punta Si chiama Alberto Cerri Certo Certo Gianfranco Perdonami Cioè Forse Ho interpretato male Il tuo messaggio Allora Se non segni Prima o poi Con questa difesa Il gol Lo prendi Ma innanzitutto In rima Complimenti Allora Se non segni Se non segni Abbiamo fatto un tiro in porta Con questa difesa Cosa vuol dire? Oggi Il Bari Ha avuto Un'occasione da gol E non ha fatto Un cazzo Ma perché Bisogna dire Che la colpa È della difesa Oggi Ma perché Ma perché La colpa è della difesa Ragazzi Ma perché Dovete dire queste cose Non capisco Adesso La colpa è della difesa Cioè abbiamo Un attacco E un centrocampo Che Fanno un tiro a partita Anzi Il tiro l'ha fatto Altare Quindi oggi Né un centrocampista Né un attaccante Ha tirato in porta Noi non facciamo più Il riscaldamento dei tiri Tanto è inutile Cioè è la colpa È della difesa Va bene La colpa è della difesa Pochissime intensità e velocità Bassissimi I ritmi bassissimi Testone di merda Contro chi siamo la prossima Con il Venezia Don't know Nandez a me Non è assolutamente piaciuto Sono onesto Sono onesto A me Nandez Non è piaciuto Altare 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 di gran lunga Il migliore in campo Assolutamente Sì Assolutamente Sì Tommy senti No Tommy Pietro senti una cosa Ma domani Aggiungessimo Una mezz'oretta Al calcetto Facciamo un'ora e mezza O dici che è troppo pesante Cosa ne pensi Pietro Cosa ne pensi What do you think Hi Hi Pietro What do you think about Ma si può aggiungere mezz'ora All'ossigeno Secondo te Beh possiamo chiedere Per mezz'ora prima Dopo No dico L'idea ti alletta Volendo Poi al massimo Si chiede Ci dicono di no Dai Dai Io Gianfranco Va bene Rispetto Basta Non voglio fare L'iditatore Calcistico Rispetto la tua opinione Ma davvero Se hai la possibilità Riguardati la partita Mi sento di dirti Senza essere troppo presuntuoso Che veramente Cioè Non so cosa tu abbia visto Ballato come pochi Ma in che senso Cioè Ma in dove ballato Io rimango Non lo so Cioè Ballato come pochi Le azioni Le abbiamo create Adesso Adesso iniziamo a mettere Il conteggio Di quante azioni facciamo Di quante volte Entriamo Nel tre quarti avversaria Ma porca puttana Siamo in serie B Siamo il Caglieri calcio Ma ci dobbiamo mettere A contare le azioni Che facciamo Ma che cazzo Di ma Vabbè Champel Cioè Adesso 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 va bene Allora adesso Mi metto La prossima volta Mi tengo Un conta Un contapassaggi Sulle palle Ogni volta Che facciamo Un passaggio Premo Premo E così Ogni volta Arrivo con le palle Pienissime Di Di rotture Di coglione A fine A fine partita Il conto I passaggi All'indietro Eh ma abbiamo fatto Più passaggi All'indietro Degli altri Le occasioni Ma dai Ma dai Cioè io sono Io sono stanco Io sono stanco Sono provato Vi prego Vi prego Non Non mi dite Non mi dite Delle boiate Dai Su Allora io voglio Non voglio mediocrità Almeno qua Dentro L'ambiente Cagliari calcio Io non voglio Dei mediocri Io voglio Gente che sa Di essere Il cagliari calcio Sa cosa vuol dire Essere un tifoso Del cagliari calcio Sa che squadra Insomma Cosa deve rappresentare E sa In serie B Che cazzo deve fare Ok Il cagliari calcio Deve fare Determinate cose Ciao Fabio Non iniziamo Con le super cazzo Le A Ma abbiamo fatto Delle azioni Ma quali azioni Il cagliari E il Milan Della serie B Ma il Milan Gioca benissimo Ma cosa dici Al massimo La Juve Della serie B La Juve Volevi dire Altare Ha fatto L'ennesima Partita Clamorosa Ripeto Altare Preso Dalla serie C Alla fine Gira e rigira Il giocatore migliore Di questa squadra C'è poco da fare C'è Solo una squadra Così miope Nelle dinamiche Che vi ho spiegato Diecimila volte Sulle quali Non voglio Tornare Poteva non dare La fascia Da capitano Ad altare E vi confermo Che dal vivo Altare E il giocatore Che Che comanda Questa squadra Ve lo confermo Ve lo confermo Pietro può confermarlo Si vede benissimo No ma io Cioè il problema Il problema è proprio Il livello di atteggiamento Poi perdere Ci può stare L'avevo detto anche a Pietro Guarda secondo me Il problema sarà sicuramente Il giro d'andata Prima che iniziasse il campionato Il perdere ci può stare Non è un problema Non sto dicendo quello Io sono il primo Che vi Io vi sto dicendo Forse per me Avrei aspettato anche un anno A salire Facendo veramente qualcosa di serio Con giovani Alternando giovani Esperti Facendo una cosa Interessantissima E prendendo magari Un allenatore Non lo so Che conoscesse Uno che conosce Con quale fare Non lo so Qualcuno con cui fare qualcosa Non è stato fatto Squadrette No non hai capito Albe Non è le squadrette Il fatto è che il livello è basso Cioè il Bari È una squadra Obiettivamente Che non ha fatto un cazzo Tutta la partita E ha vinto Che è ancora imbattuta E mi viene da dire Dopo averla vista Contro il Cagliari Che non è una squadretta È proprio una squadra di merda Ma come lo è il Cagliari Come lo è il Cagliari Come lo è il Genova stesso Come tante squadre Certo che vuole tutto subito Certo Certo Bravo Giova Bravo Giova Bravo 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 Gianfranco La sconfitta Si legge in un modo solo La sconfitta Si legge come mediocrità Come presunzione Di questa squadra Di essere più forte Non si sa Su quale base Basta vedere Che i migliori in campo Quali sono Guarda i migliori in campo Quali sono I migliori in campo sono Giorgio Ultare Gabriele Zappa E Franco Carbone Che mi sento di dire Onestamente Sono I giocatori Meno acclamati Meno Che hanno meno Questo prezzemolio Tra gli incisivi Che sono più sicuri Insomma C'è più sicuri Più umili Più cazzuti E così E così E così Non c'è cattiveria Non c'è Come non lo sopporti più Albre Cosa ho fatto Zappa Scusa Alberto Adesso ti devo richiamare All'ordine Allora Allora Dopo aver fatto Mezz'ora di live Dove mi sfogo Sulle retoriche Crescenti Che la colpa È dei difensori Malbe Ma Zappa È un terzino Tra l'altro Offensivo Secondo te Chi gli dà Quelle indicazioni lì Ma tu c'hai mai Ma tu c'hai mai pensato A questa cosa Allora ti invito A riflettere Su questa cosa Zappa Sino all'anno scorso Qual era il problema Di Zappa Il problema di Zappa Era che Correva troppo in avanti Cioè che Spingeva troppo Secondo te Chi è stato Che gli ha detto Uè guarda Forse è meglio Che ti limiti Se no Lasci delle Praterie Sarà stato Liberale Ma tanto ripeto Cioè poi Ognuno può avere La sua idea Può avere la sua idea Tutto quello che volete Prendervela Con Zappa Ma vi ricordo Una cosa Il Cagliari Ve lo ripeto Yuhuu Il Cagliari Ha fatto Un tiro in porta In 95 minuti Su un calcio D'angolo Svirgolato Dove ha tirato Altare Cazzo Centrocampisti E attaccanti Non hanno Fatto Un Cazzo Barreca Bravo Fabio Barreca Bravo A togliere Carboni Barreca Non va Non sta Non sta dritto Ah Carboni Non ha giocato bene Andrea Beh allora Complimenti No ma ripeto Ripeto Io spero Mi auguro fortemente Che la prossima Col Venezia Giochi Giochi Barreca Giochi Mancoso Giochiamo con questo 4-5-1 Di merda E prendiamo Una di quelle Di quei sacchi Di merda Di quelle Vagonate Che torniamo Con la coda Tra le gambe E capiamo Cosa vuol dire Essere Essere un po' Una squadra Che ne dite Che ne dite Vi piace Come proposta Andare No Andare a Venezia No in realtà Siamo in casa Qua da noi Prendere un'altra Vagonata di merda In casa Che ne dite Visto che fate A no Che schifo Questo Che schifo Quello Quando non riusciamo A fare un tiro in porta In 90 minuti Quando andiamo A contare Le azioni Che facciamo Nelle altre Quartie Avversarie Ma vi rendete Ma vi rendete Certo anche a me è piaciuto Come è entrato Paoletti Ma vi rendete conto Di che mediocrità Che siamo arrivati Come livello Bravo Luca Bravissimo Luca Siddi Bravissimo Ma certo Ma certo Albe Ma perché non puntiamo L'uomo Perché tu hai messo Dei giocatori Che l'uomo Non lo puntano Perché Mancoso Non lo punta Perché Nandez In quella posizione Del campo Non lo punta Nandez E' uno che lo punta O da mezzala O da esterno A tutto campo Non ha Allora La rapidità Dala Nello stretto E' una cosa diversa Dalla rapidità In generale Nandez E' un giocatore Rapido Ma non ha Quello scatto Dala Per saltare L'uomo Ma a me Ma a me Ragazzi La cosa che fa Incazzare Che C'è Oggi Una sconfitta Che Liberani Ha deciso Di fare Con i suoi Uomini C'è Con sto 4-5-1 Del cazzo Ma puoi giocare Col 4-5-1 In serie B Di Cristo Santo Ti chiami Cagliari Calcio 4-5-1 Del cazzo In casa In casa E ci avevi E hai tenuto Sino al novantesimo Dei morti Come Viole Mancosu Cioè Ma non c'è Allora Non cerchiamo Neanche di difendere Liberani Perché io L'ho sempre detto A me Liberani Non sta Minimamente Bravo Fabio E' un giocatore Bravissimo E' un giocatore Che ha bisogno Di più campo Io infatti Allora O sfrutti La sua grinta Da mezzala Oppure lo metti Terzino Fine Fine Sti moduli 4-5 Guardate Vi dico una cosa Mettiamo Andes terzino E zappa esterno Io proverai Sta cosa qui Se fai 4-5-1 E sia chiaro Adesso Aspettate che Silenzio Tommy Nascondi Utente Dal canale Oddio Mi sta chiamando Mia madre Adesso Rifiuto Non è Non è proprio Il momento Cioè a me fa Incazzare Veramente Bestia La mediocrità Da cui ci siamo Ridotti Cioè io Anche fuori Dallo stadio Tutti Cioè tu In serie B Non devi fare I ragionamenti Della serie A Non puoi accontentare Cioè non puoi essere contento Con due sconfitte In sei partite E con delle prestazioni Del genere Perché la sconfitta Può venire Ma con prestazioni Del genere Cristo santo Questa è una serie B Sti le rastelli Cioè Serie B dove si Puoi vincerla Però è Fortemente imbarazzante Certo che fai sei gol Però il signore Il signore Non gli diciamo un cazzo È davanti Sto 4-5-1 Mancoso Nandes Ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Ma che pochezza è Il Cagliari Calcio? Ma che cazzo Ma che cazzo È il Cagliari Calcio? Allora Mi date una definizione In chat Di che cos'è Per voi Il Cagliari Calcio? Per voi che cos'è? A me A me Nico Ti dico Rastelli a me non è mai piaciuta Anche lì la squadra Non mi ha mai fatto impazzire Sarà poi Che anche lì Quell'anno Ricordi terribili Perché sono andato a Novara E avevamo perso 1-0 Contro il Novara Che voglio dire Manco Avessi detto Uno squadrone Scusate Sì insomma Quindi Mi dà abbastanza fastidio A livello di risultati Sì certo Sì sì no No Quello è vero Vero Condivido Il problema è quello Che ti sto dicendo Nico Il problema è questo qui Cioè Io posso ancora accettare Una merda del genere Se con dei risultati Cioè accettarla Io mi rimetto Alle vostre Anali Vostre Poi mi dispiace Coinvolgere sempre tutti Però C'è tanta gente Che fa delle analisi Basate solo sul risultato Mi rimetto I vostri pareri E bom Per me La partita col Benevento Era stata Penosa Assolutamente L'ho detto nel cetriolo L'ho detto nel post partita Prendendomi anche Le critiche del caso E Infatti vi dico Io oggi sono incazzato Perché ho speso soldi Per andare a vedere Questa cosa Perché sono venuto qui Per quello Fondamentalmente Ho visto questa cosa qua Imbarazzante Con un tiro in porta Su una svirgolata Di calcio d'angolo Nel primo tempo E poi basta Io sono incazzato Per quello Ma per me Questa cosa Non rappresenta una novità Ragazzi Per me non è una novità Questa squadra Troppo folta Cosa c'eravamo detti Nel mercato Attenzione La squadra Mi sembra un po' Troppo folta Onestamente Mi sembra che in difesa Se non giocano Quei due C'è da dire Che forse Veramente Siamo nella merda Perché il signor Capracesso E l'altro Chi è? Chi è l'altro difensore Che abbiamo? Oddio No Dossena E il signor Dossena Insomma Tutta sta sicurezza Secondo me Non lo sono Però abbiamo preso Diecimillali Abbiamo un gaston perero Che non vedrà mai il campo Abbiamo un allenatore Che fa delle conferenze stampa Dove onestamente Avrei molto da ridire Sullo suo metodo comunicativo Perché ogni volta Sembra sempre Che prende per il culo I giocatori Perché dice Ah vi assicuro Che quelli in panchina Spingono molto forte Ma stai mettendo La stessa formazione Da Da cinque partite di fila Da appena Da quando ti è arrivato Mancosu Stai mettendo la stessa formazione E non c'è stata Una prestazione degna di nota Se non quella col Modena Che forse O era una squadraccia loro O per 65 minuti Hanno giocato Senza ascoltarli i verani Non lo so Cioè il fatto è questo In casa E qui Io non ho un capacito di questo Ma in casa Vi chiedo a voi Se me lo potete spiegare In casa Stai perdendo Uomo in più E tu negli ultimi dieci minuti Non riesci a fare neanche Un tiro in porta Ma cioè Ma vi rendete conto Della pochezza Che stiamo tifando Cioè a me Questa roba Fa schifo A me fa schifo Cioè vi giuro Poi per quanto Uno ti ferà cagliere a vita Ma tifare cagliere È attualmente La più grande disgrazia Della mia vita A livello sportivo Cioè è una È una disgrazia A cui uno è condannato Ma anche la vostra Penso Spero non ne abbiate Di peggiori 3-4-1-2 Sì Piuttosto sì Secondo me 3-4-2-1 Ripeto Con questa squadra Ragazzi Con la rosa Che c'era E con la primavera Che arrivava Che ha giocato Diverse volte Con la difesa 3 Secondo me Aveva molto 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 senso Prendere un allenatore Che ti gioca Con la difesa 3 Ma ti gioca Non il 3-5-2 Con modulo di merda Ti gioca il 3-4-2-1 Un modulo moderno Un modulo sensato Un modulo al passo Con i tempi Perché avevi Gli elementi Per farli Per farlo Perché dietro Hobert Non dovevi reinventarli In un ruolo non suo Perché ad esempio Un Carboni Aveva da occuparsi Praticamente Poteva Con dietro Una difesa Con dietro Una difesa 3 Spingere magari di più Stessa cosa Con Zappa Dall'altra parte Invece Con questa difesa 4 Mi sembrano sempre Lì bloccati Tutti un po' intasati Nasalmente Non capisco Che cazzo succede A centrocampo Potevi benissimo Roggen Handels C'erano i due Che mettevi chi volevi Falco Lvumbo Lvumbo Non lasciavi la padula Da solo E questo Sì Bravo Bravo Sto leggendo Perché un testone Il classico Che dice Squadra che vince Non si cambia Bravo Il problema È che Le poche vittorie Che abbiamo avuto Abbiamo fatto È dovuto Al fattore F Verissimo 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 No Nico Non esco Perché il signor Solo Mondo Calcio Mi ha Mi ha Paccato Mi ha detto Prima La partita Che non c'era C'erano organizzati Per la serata Non so cosa dirvi Mi vedrò il Torino E vi farò il post partita Che cazzo Volete che vi dica Purtroppo È così Non dipende Da me No ma certo Che Certo che La padura Ma ci sei dopo A Cagliari Albe Ci sei per uscire Stasera Vabbè Boh Vediamo Insomma Vabbè Dai fammi sapere Poi su Instagram Non so se mi voglio Vabbè Se fai tardi Beh di sicuro Non faccio presto Cioè Cosa intendi Per tardi Nico Fotto sta Che questo Era quello Che vi volevo Dire Insomma Ripeto Deluso Ma le sei di cosa Di mattina Che cazzo Devi fare Le sei di mattina Scusa No però No però appunto Deluso Più che altro Dal fatto che sono venuto Per vedere Unesimo schifo Non per altro Non per altro Non per altro Vabbè comunque adesso Stacco La diretta Stacco la diretta Televisiva Ah vai a fare Vai a fare Vai a fare Serata Nico Vabbè Stacco la La serata Sì la serata Stacco la roba televisiva E mi riposo un po' Ciao